La terza edizione dell'intrepida ha regalato una giornata di festa agli oltre 600 protagonisti che hanno avuto la possibilità di pedalare su percorsi stupendi ed accanto a campioni che con le loro imprese hanno scritto la storia del ciclismo. Su tutti Maurizio Fondriest, Francesco Moser e Gilberto Simoni. Ai nastri di partenza della cicloturistica su biciclette d'epoca anche gli ex professionisti Roberto Conti, Marino Amadori, Daniele Righi e Massimo Codol ed il giovane pro Mirko Tedeschi, presenti ma non come partecipanti anche Franco Bitossi e Marcello Mugnaini. Ecco le impressioni di alcuni di questi straordinari fuoriclasse. Maurizio Fondriest, campione del mondo su strada nel 1988, vincitore tra l'altro di due coppe del mondo, di una Milano Sanremo e padrino dell'intrepida fin dalla prima edizione. Penso che a parte il mangiare, che qua in Toscana si mangia sempre da Dio, sono veramente felice di essere qua alla gara, alla gara, alla pedalata, perché penso che non l'ho mai fatto con la bicicletta corsa tutta questa strada sterrata in mezzo alla natura, i ristori così, veramente stupendo. Fondriest ha partecipato all'intrepida vestendo una splendida maglia ridata ed ha spiegato come il ciclismo negli ultimi anni sia profondamente cambiato. L'ho vinto nell'88, quindi molti anni fa, non avevamo più le maglie di lana, però io ho corso con queste maglie di lana da piccolo fino a dilettante e quindi anche con queste bici, col cambio sul tubo e a volte ti chiedi come facevi a correre, cambiare, cambiare in maniera precisa, scattare, quindi pensare a che rapporto dovevi mettere prima di scattare, quindi dovevi essere un artista. Insi il mondiale con l'Alfa Loom Legnano, l'anno dopo ho corsi tutto l'anno con la maglia di campione del mondo alla del Tongo. I ricordi bellissimi, il ciclismo era diverso, era un ciclismo europeo, adesso come è logico che sia, si è voluto moltissimo e diventava un ciclismo mondiale. Francesco Moser, terzo nella classifica all time con 273 vittorie, tra cui il titolo mondiale su pista nel 76 e su strada nel 77, un giro d'Italia, tre Parigi Roubaix, due giro di Lombardia, una Milano Sanremo e il record dell'ora. Il fuoriclasse Trentino ha partecipato all'intrepida con una bici speciale. Una visita del 79 che ho vinto da Parigi Roubaix, c'era una lucea, l'arrivo dal museo, l'avvito da un giorno, ma io lavoro solo in queste occasioni. Ma la Roubaix non è sterrato, è diverso, ma comunque ci sono dei tratti dove c'è molto fango, è difficile anche lì, forse più difficile che qua. Ecco le sue sensazioni al via della cicloturistica anghiarese. Siamo pronti ormai, siamo concentrati sulla partenza e poi vedremo sto percorso. E la sua opinione sulla salita di Scandolaia. Per fortuna che è corta e che è durina. Branco Bitossi, due medaglie ridate su strada e 171 vittore da professionista, tra cui 21 tappi al Giro d'Italia e due al Giro di Lombardia. Il cuore matto del ciclismo italiano non ha preso parte alla pedalata, ma ha seguito con grande passione ogni attimo della giornata. Ma non corro perché sono andato poco in bicicletta e quindi non voglio rischiare le strade bianche così, non me la sento. Gilberto Simoni, vincitore per due volte del Giro d'Italia e sette volte sul podio complessivamente nella Corsa Rosa. Ecco il suo racconto di questa splendida edizione dell'intrepida. Una giornata così poteva andare solo che splendidamente, insomma un'emozione unica per me. E anche un po' la prima gara mi sembrava di essere tornato bambino perché quando ero bambino un po' le gare erano così, erano un po' intrepide diciamo. E' stata una bella esperienza. Hai portato anche i tuoi Giri d'Italia a due vinti qua, insomma per noi è un grande onore. Beh a me fa piacere insomma, però dai l'importante è condividere questa passione e anche un po' di storia, no? Perché alla fine insomma vedere anche gli altri, condividere i mezzi, guardare, vedere cosa è stato fatto nella storia, insomma. E' bello, ci aiuta anche un po' a essere ottimisti in questo momento, no? I paesaggi di Anghiari, le strade come l'hai trovato? Ma sì, sicuramente, stupendo, insomma una corsa un po' diciamo un po' complicata, ma dai, a me le cose facili non sono mai piaciute, perciò veramente ho... Vida così in freno! Ma dai, le mati! Mirko Tedeschi, giovane promessa del ciclismo italiano che nel 2014 ha disputato la sua prima stagione tra i professionisti. Divertendo, la giusta fatica, insomma poi una giornata così è eccezionale. Ora, finalmente siamo arrivati al ristoro che ci vuole anche quello, dai. Cavolo, tutta sterrata così, la prima parte è piuttosto impegnativa, però fatta in compagnia si ne accorge poco, insomma. Mirko conclude parlando della sua prima stagione tra i pro e guarda con fiducia alla futuro. Allora, all'inizio è stato un po' pesante perché il cambio di categoria si è fatto sentire. Poi, dalla seconda parte di stagione, dove ho corso con più regolarità, insomma, qualcosa di buono nel mio piccolo penso di averlo fatto, insomma. E ora guardiamo con fiducia l'anno prossimo e proveremo a fare lo scalino in più.